È uno strumento che avvicina di molto il cittadino alla casa comunale. È un'idea sulla quale abbiamo lavorato insieme con l'assessore Antonio Crusco e con la società demoscopica. Sono stati intervistati numerosi cittadini di Rende e sulla base di queste interviste e quindi si partiva anche già dal bilancio partecipativo siamo arrivati al bilancio sociale. Quali sono le conclusioni? Che cosa si evince da queste interviste? Che cosa serve questo strumento soprattutto? Uno strumento di democrazia diretta, la trasparenza amministrativa, la consapevolezza del cittadino anche in relazione al bilancio. Non è facile leggere un bilancio comunale. Questa è una sintesi di quello che è appunto il bilancio di una casa comunale e che tiene soprattutto in vista come obiettivo l'assetto sociale della stessa città. Io devo dire che è interessante anche per progettare il futuro di una realtà. Sapere quanti sono gli abitanti, il sesso, gli studenti e via discorrendo. Aiuta nella programmazione. Sapere per esempio Rende è una delle poche città calabresi col segno più, sul lavoro più 9,2%. Anche l'incremento della popolazione, là dove si registra invece un decremento della popolazione su altre città della Calabria, qui c'è invece un indice più. A tutto questo si deve aggiungere le cose più importanti, vale a dire quasi 2 milioni di euro per l'assistenza alla disabilità e agli anziani, 17 milioni di euro per l'ambiente e il territorio. Sono dati significativi che danno contezza di uno sforzo finanziario importante che serve appunto a progettare una realtà nuova e una città nuova. In questo devo dirle la vicinanza del cittadino che viene intervistato, che oggi sente e vede quali sono i numeri della realtà sociale ci consente di andare oltre. E a questo proposito io devo davvero ringraziare e colgo in questa sede l'occasione per farlo. Ieri ho ricevuto la visita nella casa comunale degli studenti del liceo classico. Cosa le hanno detto sindaco, come è andata? Beh, devo dirle, un questionario, mi sono venuti a interrogare, cosa molto molto bella, ma hanno interrogato anche i cittadini, hanno chiesto anche ai cittadini, ma tutta una serie di informazioni, dagli investimenti sullo sport, agli immigrati, al tema degli immigrati, al lavoro, allo studio, devo dire davvero importante e guarda caso noi avevamo pensato appunto di andare oltre e di pensare al bilancio sociale. Quindi diciamo che ci siamo ingrociati e ingrondati su un tema che mi accorgo essere particolarmente attuale, sentito dai cittadini. In buona sostanza sindaco, lei vorrebbe la partecipazione totale di tutte le fasce d'età ovviamente, dei cittadini di Rende, è così in chiusura. Noi andremo nei quartieri ad incontrare i cittadini, ad illustrare questi dati, ma soprattutto a progettare insieme a loro il nuovo volto dei quartieri che ci devono essere sul Rende. Quindi non solo il centro della città, non solo il centro storico, ma anche tutti gli altri quartieri diventa un modo per dialogare col cittadino, un modo per progettare il cambiamento che è il vero obiettivo che noi vorremmo perseguire. È la prima volta che si dà vita a questo strumento? Questo strumento rende la prima volta che lo si attiva, ma io devo dire che insieme col bilancio partecipativo è l'unico comune della Calabria che ha adottato questi due modelli e io mi auguro tanto che siano modelli che vengano adottati in tutti i comuni perché solo così il rilancio della nostra regione può davvero ripartire.